intanto lei vedi se riesce a fare qualche foto perché a volte si ferma con quelle orecchie belline tipo così vai di là cioè portalo tu è più verso di te? no pure di qua oh che hai visto? guardala vieni verso di me ma non è tutto lui macchia 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 vieni vieni macchia vieni ciao piccolo ciao arriva più avanti poi torna verso di me vieni macchia vieni vieni macchia boom vieni macchia ciao piccolo mamma mia mamma mia andiamo 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 macchietta che fai il nome io dobbiamo cambiare perché abbiamo avuto già macchia macchia vieni pronto davanti allora riconosce il nome eh sì bravo macchia eh sì bravo bravo dunque macchia bravo no bravo ma bravo